Inaugurazione ufficiale oggi per il MACA, il nuovo allestimento a Palazzo San Sebastiano. Un lavoro lungo ed importante che ha coinvolto più istituzioni. I musei devono essere attrattivi, non devono solo essere ricchi di storia, devono riuscire a comunicare. E quindi questo è un progetto per un museo nuovo. Non possiamo dire che un nuovo museo, perché Palazzo San Sebastiano era già il nostro museo della città. Ma è un museo nuovo, perché innanzitutto abbiamo ridefinito l'allestimento, c'è un nuovo allestimento, c'è un nuovo brand, ma c'è un riordino delle collezioni che abbiamo fatto in anni di lavoro. Quindi c'è un riordino filologico, c'erano quattro sezioni espositive organizzate diversamente. Questo oggi diventa il museo del collezionismo. Ecco allora pezzi di proprietà del comune che erano a Palazzo Ducale, oppure alcuni a Palazzo Tè, ma nella parte meno accessibile del palazzo. Il tutto in quattro percorsi che raccontano la storia della città. Maca è il nuovo museo che presentiamo oggi. Mantova, collezioni antiche. Mantova è il punto d'arrivo di un percorso collezionistico di quattro personaggi che le hanno costituite. Francesco II Gonzaga, con gli oggetti che riguardano soprattutto il palazzo, che è il contenitore di questo museo. Vespasiano Gonzaga è il collezionismo antico che riguarda soprattutto la sua dimora di sabioneta. Giuseppe Acerbi è la collezione egizia. E Ugo Sisse è la collezione mesopotamica. Un investimento da 1.200.000 euro grazie anche al contributo di Fondazione BAM, istituzione BAM divinti dal comune. A uscirne rafforzato e generare più attrattiva anche il biglietto unico, ma non solo. Il progetto infatti è molto più ampio. Su quello che adesso stai lavorando è una strategia di comunicazione più forte ed unitaria della città. Il brand Mantova è collegato all'arte e alla cultura con un museo nuovo che ha un acronimo che è il MACA, Mantova Collezioni Antiche.